Io avevo un mio fratello, pilota, che è morto in guerra, in Africa e in Libia, in questa guerra qui purtroppo, e io da allora ho sempre avuto questa passione del volo, e in casa ho avuto delle discussioni pazzesche con mia madre, poveretta, che aveva già perso un figlio. Comunque nel 50 dovevo entrare in accademia, mia madre mi era proprio proibito, però il primo corso di complemento ho detto adesso basta, e sono andato a fare la visita medica a Milano, alla quale i miei fratelli avevano detto di non farmi abile per non farmi fare il corso, e invece per fortuna non ho fatto abile. Dopodiché ho fatto le prime 30 ore di volo a Novi Ligure, quelle pagate dallo Stato, insomma, con l'impegno di poi andare in aeronautica. Finito quello, nel 50 sono entrato nel secondo corso di complemento ufficiale di complemento a Elmas, e ho fatto il corso lì, poi da lì siamo andati ad Amendola a fare il Vampire. Finito quello, ho diventato sottotenente e ha segnato al 51esimo stormo, che io volevo andare a Treviso, a Sant'Angelo, e poi dopo siamo andati a Viano con l'EF84G, e poi da Viano siamo andati alla base di Strana, e in quel frattempo c'era la patruglia formata da prima Belagambi, il colonnello Belagambi che l'aveva fatta, dopodiché l'ha presa Di Lollo, e io siccome stavo aspettando un figlio, Di Lollo mi aveva detto, lascia perdere, non fare la patruglia. Purtroppo Malaspina, in un incidente molto stupido, perché non doveva succedere, è morto e io ho preso il posto suo. Di Lollo era squisita, una persona in gamba, sia come uomo che come pilota, e a volare con lui è stato bellissimo. Ci ha portato in giro, abbiamo fatto manifestazioni, non abbiamo inventato molte cose. Forse il fumo, che adesso usano benissimo, forse non so se ci siamo stati noi a inventarlo, ma so che puzzava tremendamente. Infatti a Strasburgo, in una manifestazione dove c'erano gli skybraders, gli americani, noi siamo andati in volo prima, e poi andavano loro, hanno dovuto stare fermi a terra perché c'era sto fumo, tutto il campo fermo. Di Lollo era squisita, una persona burbero, ma però quando si giocava a carte, per esempio, si incamorava sempre, ma una persona in gamba, sia come uomo che come pilota. A Torino, in una manifestazione, c'era anche mia madre, che è venuta, c'era anche il tempo, si ballava, in atterraggio noi atterravamo e partivamo tutti e quattro insieme, no? Quando sono venuti a terra è scoppiata una gomma a me. Per fortuna che non sono, sono uscito a buttare l'aeroplano fuori, perché se andavo dentro a loro succederà un guaio. Una delle cose stupidaggine che mi sono successe, si volava con il rischio tutti i giorni e purtroppo molti giorni, molte volte da certi voli qualcuno non tornava. Del mio corso, per esempio, che eravamo i 27 all'inizio, sono morti 12 del mio corso. Eh sì, purtroppo. Sì, io l'ho fatto da allievo, è un aereo pazzesco. Come hanno fatto a fare la guerra? A parte che come macchina a 10.000 metri era un bidone, perché galeggiava così, eh? Mentre il Thunderbolt, a 10.000 metri era un demonio, uno tirava, stringeva come voleva e il vampire no. Ma però era, noi da allievi abituati a G59 il master con quel muso così. Su vampire uno è seduto come qua, seduto così, e le ali lì dietro. Poi con una croce strana. Tant'è vero che io ho fatto acrobazia, sentivo i miei colleghi di corso e a me, ah ho fatto qui, ho fatto là. Ho provato, ho provato a fare il trono dei lupi, ci ho capito da Madonna, perché non vedendo il muso, ho detto qua basta, non le faccio più io. Con papà, anche quelli del mio corso, Ciriello, simpaticissimo, di Bari, sempre quando eravamo a lievi giugava a Mendola, si faceva un volo in quota tra Mendola e non mi ricordo, rimili, si andava. All'altro momento poi è venuto fuori dopo che l'ossigeno non era buono e lui è andato con l'ossigeno, sai come succede, no? Lui non ha capito più niente, insomma è venuto giù in vita morto. Causa, covampai, ma non causa sua. Poi è un ragazzo simpaticissimo, da Stagoma. Una volta mia moglie a Daviano era, no? Agli uffici dell'Aulantica e io andavo sempre da lei con la 4G e facevo le puntate sull'ufficio e c'era una palma, ero bruciata. Dopodiché però un giorno sono andato con il G59, che siccome l'avevo fatto dall'allievo, facevo il trail in Umanica e ho avuto la malaburata idea di andare lì e fare il tonno che facevo con il G. Non l'avessi fatto, roba che mi infilo per terra perché non ero abituato, perché uno tira su, fa così e via. Invece con quella erica cambia tutto, dove devi lavorare. Io di complemento avrei dovuto fare gli esami per passare il servizio preparato e fattivo. Però avevo già due figli ormai e ad un altro momento, da noi le dirò che gli erano altri che prendevamo quattro soldi e quando tutti i morti che ho visto purtroppo del mio stormo e non degli altri, tiravano fuori i soldi della corretta per dare noi alla moglie, perché lo Stato non dava quasi niente, quasi. Allora, in un dato momento, con due figli, con i soldi che prendevamo, abbiamo tentato e io e tanti altri. Anzi, quella volta siamo venuti via da tantissimi comandanti di C10 o di Giambo e abbiamo aperto la strada ai giovani che non ci sarebbero arrivati chissà quando, finché stavamo noi. E comunque è stata una questione, purtroppo, di soldi. Anzi, perché se uno vuol vivere deve fare qualcosa. Infatti, inizialmente anche nell'Italia non è che ci dessero chissà che cosa, eh, teniamoci. Però, man mano, poi da comandante, altro... Ci hanno chiesto, in quattro di noi, a fare il corso sul Canadair. E ho fatto il Canadair. Siamo stati i primi quattro piloti con un Canadair che poi... Se erano incendi si andava con un aerodo dove andare? Per andare in Sicilia ci metteravamo due ore da qui. Quando eravamo lì, erano già bruciato tutto, era l'ultimo andare. Adesso almeno c'erano tanti e poi sono... Sì, adesso... E comunque, anche quelli hanno fatto il Canadair. E' un'esperienza. Finché ero sui laghi, ero con i fiumi, il mare quando era mosso... Una vita, guarda, delle botte da matti. Veramente, era duro. E poi si faceva anche 70-80 sganci e perciò amaraggi e sganci in un giorno. E poi, insomma, non ero più giovane io tanto. Ci vuole esperienza, però va bene per un giovane. Sai, lì, vai via con un braccio e... E poi dopo... La mania di questi canadesi che sono istruttori. Se hai... ti piatta motore, c'hai un coro, devi fare tutto tu. Ma allora cosa c'è il primo vinciare con me? Le darò gli ordini, no? La vita dell'aeronautica è stata... me la ricordo sempre. E cioè, una cosa strana, ma dopo tanti anni che non volo, io sogno sempre di essere nell'aeroporto o di essere su un aeroplano. e non c'è niente da fare. Io abito qui e vedo gli aerei che vanno all'atterraggio qui a Pratica di Mare e io devo correre fuori per vedere. Stanche... Anche se li vedo tutti i giorni, però devo vederli sempre. ho il paio. non c'è... Perfetto, mi la ricordo, mi la ricordo per vedere... non c'è...